L'obiettivo è rubare il manufatto nemico e riportarlo alla tua base proteggendo al contempo il vostro manufatto. Prima in sangue. Ora sei una preta. Hai rubato il manufatto nemico. La squadra nemica ha rubato il vostro manufatto. La squadra nemica ha segnato. La squadra nemico 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 ha segnato. La squadra nemica ha segnato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hai segnato. Grazie a tutti. 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 La tua squadra ha vinto.